Eccoci tornati con un nuovo appuntamento dedicato a Cancelletto Cecilia Rodriguez. Come tutti sapete quest'ultima ha partecipato alla seconda edizione del grande fratello Vip, Vini, ma all'interno della casa di questo famoso reality show è cambiata la sua vita, perché dopo aver lasciato il suo fidanzato Cancelletto Francesco Monte, si è innamorata del ciclista Ignazio Moser. A quanto pare la modella argentina non ha ancora dimenticato il modello pugliese, perché in questi giorni ha fatto delle nuove rivelazioni su di lui.Le parole sorprendenti di Cecilia nei confronti del suo ex fidanzato come vi abbiamo raccontato nei precedenti articoli, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono felicissimi, perché la loro storia d'amore nata nella casa del GFV procede a gonfie vele anche senza la presenza delle telecamere. Ci teniamo a comunicarvi che la sorella di Belendi recente è tornata a parlare del suo ex fidanzato Francesco Monte, Vini, in particolare la modella argentina ha ribadito per l'ennesima volta ai giornalisti che non ci sarà nessun ritorno di fiamma tra lei e il modello pugliese, ma ha precisato di essere felicissima per lui, perché in questo periodo è molto richiesto dal punto di vista lavorativo. Per chi non lo sapesse da quando quest'ultimo è stato lasciato in diretta tv da Cecilia, sul web si parla della sua probabile partecipazione al reality show L'Isola dei Famosi, ma anche del suo ritorno nel programma televisivo che l'ha reso famoso, cioè a uomini e donne. Come vi abbiamo appena detto, Cecilia è felice per il suo ex fidanzato e al settimanale Nuovo TV ha detto anche queste seguenti parole fare il naufrago è un'occasione, perché stai solo con te stesso e puoi chiarire tante cose. Sempre nel corso dell'intervista Cecilia ha rivelato che secondo lei il programma condotto da Maria De Filippi, non è il contesto adatto per trovare l'anima generale. Per finire l'argentina ha aggiunto che Francesco ha tanto da dare al punto, e ha ribadito che gli augura solo il meglio. Ignazio ha conosciuto i genitori di Cecilia come avrete già in tutto Cecilia Rodriguez non ha nessuna intenzione di tornare con il suo ex fidanzato Francesco Monte, perché sta vivendo la nuova relazione sentimentale con Ignazio Moser. A tal proposito vi comunichiamo che sabato 2 dicembre i due fidanzatini hanno festeggiato con i Rodriguez in un ristorante milanese. In particolare grazie alle fotografie pubblicate su Instagram dai diretti interessati, vi possiamo rivelare che Cecilia, sua sorella Belen e i loro rispettivi fidanzati hanno trascorso una bellissima serata in famiglia. Durante questa occasione Ignazio Moser si è trovato a suo anno, infatti ha startato anche un selfie con Andrea Iannone, cioè con il cognato della sua fidanzata. Avete capito perfettamente i familiari di Cecilia hanno accolto a braccia aperte la nuova fiamma di loro figlia, ma ci teniamo a precisare che anche la modella Argoni Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!